salve cari amiche e cari amici che mi seguite qui il vostro capitan santin chan che otto giorni prima otto giorni prima di natale già vi voglio augurare di avere una felice prospero natale a voi ea tutta la vostra famiglia mi raccomando festeggiate senza botti moderate il consumo di alcol non vi infartate mangiando purtroppo nella mia vita già dal 2015 2016 ci sono stati dei cambiamenti già non c'è più l'albero di natale e non ci siamo potuti fare i regali di natale in compenso anche quest'anno abbiamo fatto il presepe con il bambinello gesù però ci mancherà il regalo gesù giuseppe maria tasinello il bue e i regi maghi merciole gaspare merciore gaspare baldasar proprio troppo non ci sarà regalo allora vi dicevo cari amiche ed amici purtroppo come già negli ultimi anni questo natale non ci possiamo fare i regali in famiglia non ho neanche più le luci colorate i festoni e l'alberello perché si è rotto l'alberello guardate fra i miei video il video che ha fatto nei natali precedenti comunque se voi ne volete fare un regalo io non vi chiedo come molti di caricare la mia paypal o di darmi denaro pacchi regalo e queste cose qua basta basterebbe che voi guardiate tutti i miei video vi condividiate gli mettiate like e li commentiate e soprattutto iscrivetevi al mio canale aiutatemi a superare le mille visuali i mille iscritti e il milione di visualizzazioni del canale ed aiutatemi a che ogni mio video superi le 100 mila visualizzazioni in questo modo è come se mi farete un regalo in questo freddo inverno per queste feste di natale è come se metterete un regalo nel mio presente non vi chiedo denaro vi chiedo solamente che guardiate i miei video che con tanto sforzo in questi ultimi cinque anni circa ho fatto dal 7 febbraio 2013 che gli diate like che li commentiate e che li condividiate non vi chiedo a nient'altro in questo modo anche iscrivetevi e fate vi fate che i vostri amici si iscrivano al mio canale così se supero le mille iscrizioni posso monetizzare i chat dei miei live e magari qualcosa mi arriva anche da lì mi raccomando allora buon natale a tutte e tutti voi dal vostro capitale sant'eggiano aiutate il mio canale a crescere sostenetemi però non vi chiedo come fanno altri youtubers e sostenermi economicamente con regali con soltanto guardando tutti i miei video condividendoli mettendoli like commentandoli condividendoli nelle reti sociali con io eccetera e aprendo discussioni nelle discussioni del canale allora buon natale di nuovo forse farò altri video augurandovi buon natale e per le altre feste arrivederci dal vostro capitano salveggiano buon natale 2017 a tutte e tutti voi e guardatevi se volete gli altri miei video che ho girato negli anni passati augurandovi buon natale uno ha superato le 2000 visioni visualizzazioni gli altri un po meno diffondete questo video tutti gli altri per che il mio canale abbia successo mi raccomando e non mi fate perdere l'animo ciao buon natale o buon natale buon natale sapato